A quanti non piacciono gli insetti? Potete alzare la mano. Ecco, vi vedo poco, però vedo che siete in tanti. E in effetti gli insetti a molti non piacciono. Però, nonostante ciò, oggi vedremo perché sono fondamentali per la nostra sopravvivenza e per il nostro futuro. Ho iniziato ad avere una passione per la natura e quindi anche per gli insetti fin da quando ero bambino. E quando andavo all'elementari uno dei miei passatempi preferiti era quello di rompere delle rocce sul pavimento della sala da pranzo, con grande gioia di mia mamma peraltro, per cercare dei fossili, ovvero dei resti di organismi preistorici rimasti intrappolati all'interno delle rocce. Quindi prendevo un blocco di calcare, lo mettevo per terra e poi martellavo fino a quando non usciva qualcosa. Dopodiché lo passavo a mio papà, gli passavo i miei ritrovamenti e visto che lui è un paleontologo, quindi studia i fossili per lavoro, lui mi rispondeva. E la risposta tipica era, ah ma questo è un ortoceras, quindi è sicuramente del periodo ordoviciano. Oppure, ah ma questo è un trilobite, quindi è sicuramente del periodo paleozoico. E in realtà per lì ci capivo poco anch'io. Però, quello che mi stava dicendo era che quei fossili che avevo trovato in quel momento, potevano essere trovati solo ed esclusivamente nel periodo geologico chiamato paleozoico. E quindi anche nelle rocce di quel periodo geologico. E che quindi potevamo usare la presenza di questi organismi all'interno delle rocce per conoscere la loro età. Bellissimo, quindi. Possiamo usare degli organismi che vivevano quel periodo che troviamo intrappolati all'interno delle rocce per conoscere l'età delle rocce stesse. E questo è possibile perché questi organismi, dopo un certo periodo di tempo in cui avevano prosperato e si erano riprodotti, erano stati spazzati via dalla faccia della terra. Erano stati spazzati via, rimanendo solo sotto forma di resti fossili, da alcuni eventi catastrofici, come eruzioni vulcaniche o meteoriti, che avevano causato quelle che i paleontologi chiamano le cinque grandi estinzioni di massa. Sono periodi in cui in un lasso di tempo molto breve si estinguono, quindi spariscono, un numero elevatissimo di specie. Sono eventi anche molto rari. Ce ne sono state solo cinque nella storia della vita sulla Terra e l'ultima, per così dire la più recente, è avvenuta circa 66 milioni di anni fa ed è quella famosa in cui si sono estinti i dinosauri e i tre quarti delle specie del pianeta. Ma quindi, se sono così rare, perché dovremmo preoccuparci? Non ci si preoccupa che un meteorite ti cade in testa all'improvviso mentre vai a lavorare al mattino, no? E però, in questo caso, in effetti, dobbiamo preoccuparci, perché secondo gli scienziati una di queste grandi estinzioni di massa è in atto proprio ora, mentre parliamo, in questi giorni, in questi mesi e in questi anni, e sta procedendo a un ritmo vertiginoso. L'unica differenza è che questa volta non c'entrano meteoriti o eruzioni vulcaniche, ma è l'uomo la causa di questa sesta estinzione di massa. Inquinamento, cambiamento climatico, distruzione dell'abitat e altre cose stanno erodendo la biodiversità che ci circonda. Ma i paleontologi hanno calcolato anche una velocità di questa grande estinzione di massa, di questa sesta grande estinzione di massa. Fate conto di andare in macchina e di osservare il tachimetro per controllare la velocità a cui state andando. In un tempo normale, in un periodo normale, con un tasso di estinzione normale, vedremo una velocità di 18 km all'ora. Oggi, invece, vediamo una velocità di 230 km all'ora, molto al di sopra di una velocità che sarebbe tipica di un periodo normale. E, secondo alcuni, anche al di sopra della velocità tipica delle altre 5 estinzioni di massa. Ma, non ho detto tutto, queste stime sono state fatte usando soltanto i vertebrati e altri animali di grandi dimensioni che conosciamo bene e che, però, costituiscono soltanto una piccolissima parte della vita sulla Terra. E nel grafico alle mie spalle li vedete rappresentati da una rana. E tutto il resto? Beh, tutto il resto sono invertebrati, per la maggior parte, insetti, che da soli costituiscono più della metà delle specie che ci sono sul pianeta. Quelle che conosciamo, che gli scienziati hanno identificato, sono circa un milione, che sono già tantissime, ma si stima che ce ne sono almeno altri 6 milioni che sono ancora da scoprire. Di queste specie non sappiamo quasi nulla. Non sappiamo neanche che esistono, e quindi non sappiamo neanche dove vivono, cosa mangiano, quale sia il loro ruolo per l'ecosistema. I singoli individui, quindi i singoli insetti, sono ancora più numerosi e si stima che per ognuno di noi, per ogni umano presente sulla Terra, ce ne siano 200 milioni. Sono cifre da capogiro. Eppure sono anche gli insetti che si stanno estinguendo. E a un ritmo che non è inferiore a quello degli altri gruppi animali. Ma quindi abbiamo detto che ne sappiamo poco degli insetti. Eppure ne sappiamo abbastanza per dare alcuni numeri. Per esempio sappiamo che già oggi la metà delle specie di insetti sul pianeta è già a rischio di estinzione e che ogni anno ne perdiamo circa l'1%. Ma l'1% ci può sembrare una cifra da poco, un piccolo numero. Eppure se ne perdiamo l'1% ogni anno, da qua a pochi anni rischiamo di non averne più. Molto meglio, direte voi. Senza insetti sarebbe un paradiso. Non bisognerebbe più preoccuparsi delle zanzare mentre friggiamo il gnocco fritto in giardino d'estate. E non ci sarebbero più tantissime malattie come la malaria, la dengue, la zica, la febbre gialla. Vi faccio una domanda. Cosa avete mangiato stamattina a colazione? Per chi non se lo ricorda mi dicono che c'è il medico che aspetta fuori. Quindi io per primo ovviamente dopo lo vado a vedere. Facciamo un questionario. In quanti di voi stamattina hanno mangiato cioccolata o qualcosa che conteneva cioccolata? Bene, la cioccolata è prodotta a partire dai semi della pianta del cacao che riesce ad essere impollinata solo e soltanto da questi piccoli moscerini del genere forcipomia che sono gli unici che riescono a farlo e quindi sono gli unici che riescono a permettere alla pianta del cacao di produrre i suoi preziosi frutti. Quanti invece di voi hanno spalmato della marmellata sul pane stamattina? Bene. Allora, la marmellata è prodotta a partire da alcuni frutti di piante che sono soprattutto rosacee e che sono come pruni, peschi, meli, eccetera impollinate per la stragrande maggioranza dei casi dagli insetti come bombi, coleotteri o apoidei in generale come quello che vedete nella foto. Infine, quanti di voi hanno messo del miele nel tè, nel caffè o nella tisana o in quello che bevete? Bene. Il miele, come è noto, è prodotto a partire dal lavoro delle api domestiche delle api smellifera e di pochissime altre specie di api che l'uomo ha appunto domesticato. Gli insetti ci nutrono, ci danno da mangiare e in un futuro non tanto lontano potrebbero essere proprio loro che mangeremo. Gli insetti contribuiscono alla biodegradazione ovvero allo smaltimento delle sostanze organiche Gli insetti sono alla base dell'alimentazione non solo per noi, può darsi nel futuro ma sono alla base dell'alimentazione per milioni di altri organismi sulla Terra Gli insetti quindi sono numerosissimi ed è anche per questo che sono tra le colonne portanti degli ecosistemi della Terra Io non capisco niente di informatica però mettiamo il caso che voglia fare delle modifiche al mio computer beh, lo aprirei e poi cercherei di mettere mano a quel groviglio complicatissimo di chip, processori e saldature che c'è all'interno di un computer però come vi ho detto non capisco niente di informatica quindi il rischio è quello di romperlo e lo romperei quasi sicuramente beh, questo è quello che stiamo facendo oggi alla Terra la stiamo aprendo e stiamo mettendo le mani nel groviglio di biodiversità e degli ecosistemi di cui non sappiamo quasi nulla e il rischio è quello di rompere, di spaccare gli equilibri delicatissimi che ci sono al loro interno in Italia però, rispetto ad altri paesi del mondo, siamo fortunati l'Italia è il paese più biodiverso d'Europa ovvero il paese che è più ricco di specie, animali e vegetali in Italia vivono 57.468 specie di animali e 9.789 specie di piante tra gli animali una specie su dieci è endemica ovvero vive solo e soltanto nel nostro paese e in nessun'altra parte del mondo in più tra queste specie endemiche alcune vengono definite dagli scienziati steno-endemiche ovvero vivono solamente in piccolissime porzioni di territorio come una piccola grotta o addirittura un pascolo sulla cima di una montagna come questo coleottero che abbiamo scoperto tre anni fa in Abruzzo questa biodiversità ricchissima che abbiamo oggi è in pericolo e oggi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa per proteggerla ma quindi cosa stiamo facendo per ora per proteggere questa biodiversità poco stiamo facendo davvero poco però quello che abbiamo fatto sono dei simboli e soprattutto ci dicono qual è la giusta direzione per esempio l'Italia è il primo paese in Europa che si è dotato di una lista completa delle specie animali e vegetali che vivono all'interno del suo territorio ed è anche per questo che ho potuto darvi questi numeri stasera in più l'8 febbraio di quest'anno del 2022 la conservazione la protezione della biodiversità e della natura sono entrate a far parte della costituzione della nostra repubblica questo però non basta questo non basta se vogliamo proteggere gli insetti e salvarli dall'estinzione dobbiamo assolutamente fare di più dobbiamo fare di più e soprattutto dobbiamo imparare a conoscere quindi a rispettare e quindi anche ad amare gli insetti perché dalla loro sopravvivenza dipende anche la nostra sopravvivenza e il nostro futuro quindi la prossima volta che in giardino vedrete zampettare dei coleotteri dei bruchi o delle api non passate subito con l'insetticida per eliminarli e pensate che salvando loro state salvando un po' anche voi grazie grazie a tutti grazie a tutti